Sono 26 le strutture siciliane per la prima infanzia che riceveranno dalla regione i finanziamenti per il sostegno agli investimenti per l'adeguamento delle strutture, le sedi di asilo nido, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Ha pubblicato l'elenco delle domande degli enti del terzo settore che hanno avuto accesso alle risorse. In totale saranno assegnati 4 milioni di euro, somme derivanti dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale per le politiche della famiglia. Vogliamo incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che fruiscono dei servizi di prima infanzia, promuovendo così l'integrazione tra soggetti del terzo settore, no profit e le amministrazioni locali. Sottolinea l'assessore alla famiglia, Nuccia Albano. Così facendo contribuiremo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, promuovendo la piena esclusione a sostenere la funzione educativa delle famiglie, ma anche a favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, incentivando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Gli aiuti sono destinati agli endi no profit, scritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che avevano già presentato istante a discrizione al momento dell'adesione all'avviso pubblico. L'importo finanziabile massimo è stato di 200 mila euro, il 90% dell'importo del progetto. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono 14 in provincia di Palermo, uno in provincia di Agrigento. È stato finanziato un progetto di 200 mila euro a un'associazione di Favara, denominato L'Isola che c'è, quindi anche Caltanissetta, Messina e Siracusa, sei in provincia di Catania e due in provincia di Trapani.